Alto Adige, terra di acqua e mele, ma all'ospedale di Merano vengono servite pazienti quelle provenienti dal Cile e l'acqua da fuori provincia. Le spiegazioni dell'assessore competente Tainer in consiglio provinciale. Vediamo. Sono diventati un caso politico le mele del Cile e l'acqua minerale da fuori provincia per i pazienti dell'ospedale di Merano. Sepp Lamprecht della Sotiroler Volkspartei ha presentato un'interrogazione in consiglio provinciale chiedendo a cosa si deve questa scelta e se non è il caso di scegliere una modalità di rifornimento che privilegia i prodotti locali. L'assessore Richard Tainer ha risposto fornendo i dati della gara relativa alle mele effettuata con la procedura aperta secondo la normativa dell'Unione Europea e sottolineando che all'epoca ancora non si era tenuto conto dei nuovi criteri riguardanti trasporti ridotti e ridotte emissioni emessi solo con la finanziaria del 2009. La ditta vincitrice dunque aveva avuto il punteggio migliore in seguito ai criteri allora utilizzati. Per quanto riguarda le acque minerali si era tenuto conto anche della qualità delle acque. In ogni caso con le nuove norme si terrà conto anche di quanto chiesto da Lamprecht. Il Consiglio Provinciale ha poi approvato la mozione con cui Alessandro Urzi del PDL chiedeva di sostenere le scuole in lingua italiana che adottano iniziative di potenziamento dell'insegnamento delle lingue anche secondo il modello veicolare. È la strada intrapresa della Giunta, ha detto l'assessore Tommasini. Con il documento si chiedeva inoltre di rafforzare il sostegno delle scuole che realizzano specifici percorsi nell'ambito dell'insegnamento veicolare riconoscendo a queste scuole adeguata attività di accompagnamento, monitoraggio e verifica. Urzi ha chiesto di sostenere la sua mozione in quanto il sostegno dei nostri giovani è troppo importante per lasciarsi andare a un gioco delle parti. Tommasini ha aggiunto che la Giunta promuove anche iniziative bilingui extrascolastiche e si è detto favorevole anche al punto della mozione che chiedeva un adeguato monitoraggio della situazione. La mozione è quindi stata approvata con un voto negativo, 5 astensioni e restanti voti favorevoli. E soddisfazione viene espressa dalla consigliere del PDL Mauro Minniti per la conferma da parte del governatore altotesino Luis Durwalder in risposta a un'interrogazione dello stesso Minniti che nel prossimo gennaio partiranno le procedure per la costruzione del nuovo carcere a Bolzano Sud. La nuova struttura prevede anche la realizzazione di alloggi di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria.